Partiamo col bollettino di guerra. Chi recuperi per Perugia e chi invece non partirà? Abbiamo fuori per questa partita Vitale, Marrone, Zaccagni, Di Gaudio, Crescenzi, Ragusa, Matos, Munari e Cumbulla. Ovviamente oggettivamente siamo in difficoltà numerica, ma questo non significa che non abbiamo ragazzi in grado di poter fare e dover fare una grande partita perché la nostra sensazione è quella di avere le qualità per poterlo fare. Non è male come formazione quella che hai fatto? Nel senso che sarebbe di alta classifica. No, è un grande peccato perché siamo in difficoltà numerica, ripeto, nel momento in cui abbiamo fatto in una settimana tre partite. C'è stato un grande dispendio di energie. Però con i ragazzi il messaggio che deve passare, che ho già provato a far passare, è quello che nei momenti di difficoltà si riescono a mettere le basi per poi andare a costruire una stagione importante, perché questi sono ragazzi della nostra rosa. Sono ragazzi che sono stati importanti e tutti quanti siamo consapevoli che abbiamo il desiderio che tornino ad essere importanti. In questo momento non ci sono, ma per noi non deve assolutamente essere una scusa, deve essere un motivo in più per cercare di farli ritornare quando la squadra ha continuato ad accumulare punti e al pieno delle nostre qualità poi saremo in grado ancora di più di esprimerle tutte quante. Pensi a qualche novità, qualcosa di particolare oppure provi ad andare sulle certezze quando ti mancano così tanti uomini? Io vado sempre sulle certezze, perché quando faccio le formazioni vedo la settimana e poi in base a quella scelgo in base a quelli che mi danno più certezze in una determinata partita, quindi poi ci si diverte intorno a fare delle riflessioni che sono più o meno oggettive. Quello a me non mi ha mai importato e mai mi importerà, perché ovviamente quando si gioca tante partite, avendo una rosa a disposizione, quando ce l'ho avuto a disposizione di 24 giocatori è normale alternare i giocatori, quando ce ne sono meno qualcuno esce dalla partita precedente è normale sostituirlo, perché altrimenti si giocherebbe in meno, quindi sicuramente la formazione verrà cambiata, perché rimane a casa un giocatore che domenica ha giocato e quindi in automatico almeno un giocatore cambierà. Ha voglia di farsi rimpiangere di Carmine? Ma Samu, come tutti i compagni, deve avere voglia di far andare avanti il Verona, questo deve essere il nostro obiettivo, non pensare ad altro, solo ed esclusivamente a cercare di dare il massimo, perché vogliamo riportare in alto questa società e questo club con le nostre qualità. Tra i motivi così, devo dire di speranza, sono anche concreta, c'è l'andamento singhiozzante di chi sta sopra, perché forse ce ne accorgiamo tardi, però in realtà non è che stiano facendo un cammino così pulito. Forse voi ve ne accorgete tardi, ma noi è tanto che lo diciamo, però qualcuno vuole vederlo, qualcun altro no, perché andare a Livorno come quando ci siamo andati noi non è facile, perché andare in determinati campi di questo campionato non è facile. Poi, ripeto, si può dire se il campionato è equilibrato con un tasso tecnico elevato o meno elevato, quello ognuno può dire la sua, ma il campionato rimane equilibrato e rimane equilibrato per tutti, compreso per noi, perché ci sono squadre forti come la nostra che incontra difficoltà settimanalmente. L'ho detto la settimana scorsa e lo ripeto adesso, abbiamo delle formazioni davanti e quindi significa che fino a questo momento hanno fatto meglio di noi, ne abbiamo tante altre dietro che non hanno fatto meglio di noi. Dobbiamo essere bravi a non farci superare, a cercare di grattare il più possibile in un campionato equilibrato, quindi in ogni partita c'è la possibilità di rientrare, avendo a disposizione ancora delle giornate per conquistare punti. Quindi non sarà una partita determinante, ma sarà una partita importante che ci dovrà dare la continuità che tanto ricerchiamo. Ciao mister, può essere la partita di Di Carmine? Nel senso che questo ragazzo qui ha avuto dei problemi, di infortuni nel corso di questa stagione, ha segnato dei gol pesanti, quasi sempre, ha fatto un grande lavoro, proprio un lavoro di allungare la squadra, comunque un lavoro importante, però non ha mai avuto la partita che dici il grosso della Germania, o comunque il protagonista, il Pazzini che fa tre gol, può essere questa la partita di Di Carmine? Io ti faccio una riflessione diversa, perché a me quando mi avete parlato di Giampaolo ho sottolineato l'atteggiamento di Samu, e quando mi parlate di Samu io sottolineo l'atteggiamento di Giampaolo, perché ovviamente in una settimana in cui, come ho detto poco fa, siamo in difficoltà numerica, ma comunque abbiamo gli interpreti per fare le partite come le abbiamo fatte e come dovremmo cercare di farle, Giampaolo si è sobbarcato tre partite, ed ha ancora le qualità per poterne fare un'altra, quindi non ho ancora deciso chi giocherà, può darsi che nel tempo proveremo anche a farle giocare insieme, anche se hanno caratteristiche molto simili. Ecco, quello dicevo così, eviti una volta di parlare bene di Pazzini, quando giochi di Carmine, una volta di essere tutti contenti. Ho una squadra a disposizione, perché poi vanno messi altri otto giocatori in campo con determinate caratteristiche che possono sostenere certi discorsi, quindi mi piacciono i ragazzi che ho a disposizione, mi dispiace averne tanti fuori, come abbiamo detto poco fa, ma per noi non è un alibi, perché quelli che andranno in campo e quelli che dovranno entrare hanno tutti quanti le qualità e le possibilità di fare una grande partita, perché rispettiamo molto l'avversario a cui faccio dei grandi complimenti, l'avevo fatti già all'andata, dopo che eravamo usciti con una vittoria in campo, però è un avversario che esprime gioco, che esprime qualità e che quindi sicuramente ci sarà da fare una grandissima partita, perché hanno anche ritrovato l'entusiasmo, che gli permette ancora di fare meglio quello che provano a fare settimanalmente. Può bastare pareggiare il Curi e battere l'Ascoli? Qui abbiamo scavallato questa partita, noi vogliamo fare tanti punti, il più possibile ogni volta, quindi noi partiamo per andare a fare la partita e per cercare di vincerla. Quando non ci si riesce, l'obiettivo è quello di non lasciarla agli avversari, delle volte non ci siamo riusciti a farlo e quindi, ripeto, sarà una partita difficile contro un avversario che ha entusiasmo, che ha qualità, che ha caratteristiche per fare un campionato importante, che vuole provare ad avvicinarsi a noi e noi dobbiamo invece provare ad allontanarli, cercando di raggiungere chi ci precede. Quindi quando parli di continuità ti riferisci alla prestazione, non ai risultati, perché magari sarebbe meglio al Bente Godi, visto che comunque si è perso solo con Lecce, qualche pari di troppo, ma cercare di vincere al Bente Godi e pareggiare fuori, oppure andiamo avanti col peso dei tre punti? Ne parliamo oggi così, non ne parliamo la prossima almeno, perché penso siamo la squadra che ha la striscia migliore casalinga, perché dopo aver perso una partita penso anche abbastanza immeritatamente con il Lecce, ne abbiamo affilate tante consecutive e quindi questo deve continuare dalla prossima ad essere un punto a nostro favore e il nostro step deve essere quello di riuscire a dare seguito ai risultati che stiamo facendo in casa, perché avendo continuità di risultato sicuramente è più facile scalare posizioni. Visto anche la stagione che sta arrivando, può essere un Lari B2, hai ritrovato un ragazzo importante? Sì, perché Karim non ha mai lasciato questo gruppo, ha avuto anche lui un momento di difficoltà, ha fatto una prima parte di stagione da protagonista, poi negli episodi non è stato incisivo come potrebbe diventare, io mi auguro che lo diventi già dalla partita di domani, però sicuramente ha avuto tante opportunità, un pizzico di sfortuna anche in determinate situazioni, non gli ha permesso di prendere quella fiducia che poi gli avrebbe permesso di continuare a fare quello che stava facendo, però ha sempre continuato a lavorare con grandissima dedizione e professionalità, quindi io rispetto tantissimo il gruppo che ho a disposizione, perché ho all'interno dei ragazzi che danno tutto quotidianamente, poi lo sappiamo tutti che delle volte abbiamo commesso degli errori, però l'abbiamo fatto sempre provando a non commetterli e questo per me significa dare continuità a un percorso che stiamo facendo. Ciao mister, ben trovato. Ciao. Una delle piacevoli note positive di queste ultime partite ha un nome e un cognome, Mattò Bianchetti che ha avuto sicuramente un avvio di annata tremendo, che ha rischiato veramente non solo la carriera, però nelle ultime nove partite tu gli hai dato fiducia e lui ha risposto con grandissima personalità in mezzo alla vostra difesa. Sì, confermo, perché è un giocatore che ha qualità, perché è un giocatore che questo infortunio lo ha rinforzato, ma lo ha rinforzato non nel fisico, quando ti rinforzi nella testa poi il resto viene tutto in automatico e al di là degli errori che un giocatore può fare, sicuramente è un ragazzo che è presente nel lavoro, che ha voglia di emergere e di ricostruire quello che purtroppo ha avuto paura di perdere e quando le cose poi hai paura di perdere sicuramente ci tieni un pochino di più. Una coppiata che insomma domani tu dovrai decidere a chi affiancarlo Matteo, perché Davidoviz dopo questa parentesi contro Venezia che insomma per problemi intestinali non l'ha avuta a disposizione, però insomma Alan Emperò ha dimostrato anche di sapere agire bene anche da centrale di difesa, io ti faccio due domande in una, se pensi di confermare questa coppia oppure, visto che Vitale non sarà a tua disposizione, se pensi di spostare Emperò oppure di dare a Jure Balkovic fiducia, visto che anche lui con il Venezia è fatto bene. Se ti rispondo sinceramente, perché ovviamente qualche idea ce l'ho chiara su come andare ad affrontare la partita domani, però non mi va di dare di vantaggio un avversario che già ne ha diversi e quindi abbiamo 16 ragazzi di movimento a disposizione e tra questi 16 sicuramente ce ne saranno 10 che saranno in grado di disputare una grandissima partita. Giustamente, la tua risposta l'aspettavo e io però la domanda dovevo portare. La prossima può darsi che mi rifaccio. No, invece questa è una considerazione, sarà che io per Liam ho un'attenzione particolare perché secondo me nel complesso è uno dei giocatori più forti della tua rosa e dopo un appannamento nella seconda parte del campionato dove tu per ben 5 partite non le hai fatto vedere il campo, Alecce l'hai rimesso dentro pur non essendo andato in via del mare come tutti ci aspettavamo, mentre quel Venezia ha dimostrato ancora una volta finalmente le sue qualità e sottolineo finalmente l'augurio ovviamente che lui ripeta la gara dell'andata. Sì, Liam molto probabilmente sarà della gara, abbiamo lo stesso Debole perché per me è un ragazzo che ha delle qualità immense e può ancora migliorare tantissimo sotto tanti punti di vista, però io lo dico sempre ai ragazzi, quotidianamente provo insieme a loro a coinvolgerci e capire quello che vogliamo ottenere di grande insieme, però nel fine settimana le mie scelte non possono essere condizionate da quello che penso sui ragazzi, quindi le faccio con la testa e con la testa nel momento in cui non ha giocato per me erano un momento di difficoltà e c'erano altri compagni che meritavano più di lui di stare in campo, ora sicuramente è tornato, sta bene e mi auguro che possa rifare una partita come quella che ha fatto la settimana scorsa. Ultima per me, prima del derby col Venezia si parlava della personalità che è una delle chiavi di volta dopo il gruppo, la forza mentale di una squadra e il Verona in queste ultime dieci partite deve cercare di puntare molto su questo aspetto qui e soprattutto lontano dal Bente Godi perché se guardiamo i numeri lontano dal Bente Godi insomma non sono certo dei numeri che sorridono così tanto in casa giallo-blu. È un punto a nostro sfavore perché dopo tante giornate delle sensazioni che possono essere quelle iniziali quando poi si può fare una partita più o meno bene nel tempo e dopo tante giornate non sono più sensazioni ma sono dati oggettivi che questa squadra purtroppo ha peccato in determinati momenti in carisma e personalità. Abbiamo nel fulcro del gioco tanti interpreti che non erano stati abituati ad essere protagonisti soprattutto in squadre che dovevano essere protagoniste del campionato e questo è un lato su cui abbiamo battuto, su cui cerchiamo di migliorare però ripeto oggettivamente è stato un punto a nostro sfavore e mi auguro che in questo finale possa invece diventare un punto a nostro favore.